Buonasera, benvenuti a sette e mezzo, stasera ospite un amico e un collega Cristiano Antognoli, buonasera e benvenuto. Buonasera a te Paolo, un piacere essere qui con voi. L'occasione è la presentazione di un libro che ci riporta all'indietro di un bel po', fra l'altro di un bel periodo perlomeno ci riporta. 1984-86, eccolo qui, il Brescia, il doppio salto. Doppio salto, dillo tu perché? C'è il sottotitolo, il catenaccio per usare un termine da giornale che spiega bene. La storia di un'impresa calcistica e dei cambiamenti sociopolitici di una città, di una nazione. Doppio salto perché? Perché tu dici, è passato un bel po' di tempo. Sono passati 35 anni, eravamo tutti più giovani, io non ero ancora quasi neanche adolescente, però me lo ricordo bene quel Brescia. E ce l'avevo in testa da un po' e volevo scrivere di questa squadra che fece un qualcosa di magico. Perché in due campionati passò dalla Serie C1 alla Serie A, con Tony Pasinato, che ha infatti voluto mettere in copertina il giorno della festa, della promozione, appunto in Serie A. Questo condottiero che prende in mano questa squadra che da tre anni cercava, dopo essere sprofondata in C dalla Serie A, cercava di risalire. Prende in mano questa squadra che era stata allenata l'anno prima da Corrado Rico, che già all'epoca era un allenatore rivoluzionario, con il quale si parlava tanto, ma che a Brescia di fatto fallì dal punto di vista dei risultati, ma aveva seminato qualcosa. Tony Pasinato, che sembra, passiamo in termini, un agricoltore, aveva questa faccia da uomo di campagna, no? Perfetto per Brescia, direi. Ideale, proprio il lavoratore giusto. Non dico che fa autogestire questi giocatori, in molti li aveva portati Orrico, però li libera dalle tensioni di Orrico e, ripeto, in due anni gli fa vincere due campionati, li porta in Serie A e la città in Pazziccio e Di Gioia. Esatto, è la prima volta che succede comunque nella storia del Brescia, c'è solo questo caso. È solo questo caso e speriamo rimanga l'unico, perché vorrebbe dire che dobbiamo tornare in C per poi fare il doppio salto. Quest'anno l'abbiamo rischiata. L'abbiamo rischiata, anche l'anno scorso, va bene così e siamo a posto. Ecco, fra l'altro ci sono tantissime foto storiche, foto appunto di personaggi. Per le quali ringrazio Paolo Parizzi, che me le ha gentilmente donate, poi alcune le ho fatte sul posto perché ci ho tenuto andare a intervistare i giocatori girando mezza Italia, però le foto dell'epoca sono di Paolo Parizzi, che è un collezionista e tifosissimo della Brescia che me le ha messe a disposizione. Ecco, e fra l'altro, a parte il discorso Brescia, una delle curiosità è che tu non fai riferimento solo a Brescia e i due anni delle stagioni calcistiche, ma quello che era il panorama nazionale anche, economico, politico, tant'è vero che le prime pagine raccontano della morte di Bellinguerra. Sì, perché partiamo nell'estate dell'84, perché i campionati sono 84-85-85-86 e nell'estate dell'84 muore, dico purtroppo, Enrico Berlinguer, perché comunque la si pensi, io credo che chiunque, anche quelli che erano dall'altra parte, ancora oggi lo riconoscono come un grandissimo politico, un grandissimo statista. E poi ci sono tanti avvenimenti, per quello che ho messo storia di un'impresa calcistica dei cambiamenti socio-politici di una città e di una nazione. Parlo così, citando velocemente, non cronologicamente, parlo di Tommaso Buscetta che viene estradato da Giovanni Falcone che con questo pentito riesce poi a far partire il maxiprocesso, parlo di Cernobil, parlo a livello bresciano della grande nevicata dell'85. Io non so, la ricorda. La grande nevicata ancora oggi la si cita ogni tanto a paragone dei vari inverni. Una curiosità, dove era la festa? No, qui siamo allo stadio proprio, la copertina allo stadio, perché all'epoca si poteva ancora fare invasione di campo. Quindi tifosi, questa è la partita col campo basso, nella quale il Brescia era già promosso, però c'è grande festa allo stadio, fine partita invasione e secondo me, io ho scelto questa foto perché si vede anche la lingua di fuori, stile pimpa, te la ricordi? La pimpa che fa sempre la lingua di Pasinato, che in questo momento è stravolto perché è finito il campionato, ha vinto, lo portano in trionfo, però è instabile, ricorda anche un po' la scena di Oronzo Canà, quella finale nella natura del pallone, e lui è lì che soffre, lo portano in trionfo e dice vai, per andare a cadere. È un trionfo sofferente, però è un bellissimo tuffo nel passato, perché anche io, che ormai penso che tutti coloro che mi seguono sanno che non mastico particolarmente sport, però innanzitutto... Proverai pane per i tuoi denti comunque. Sì, perché mi ha colpito, tra coloro che hanno scritto la prefazione, cioè Eugenio Corini, che io credo sia a livello più umano, una delle persone più eccezionali, fantastiche che io abbia conosciuto negli ultimi anni qui a Brescia, un signore proprio che nel calcio al di là di tutto, perché appunto non è sportivo come me, valuta forse... Al di là del risultato che pure ha fatto, perché ci ha portato in A, ma poi ci ha portato in A con stile, con classe, con... Un signore proprio, e l'ho visto molto, però insomma trovo dei personaggi come Tullio Gritti ad esempio, che... Anche tu sai chi è stato, insomma... Anch'io so chi è stato, insomma, negli anni che furono, insomma, altri personaggi... C'è anche Omar Pedrini, hai visto... Omar Pedrini... Perché ci sono più prefazioni, e mi piace citarlo Omar in questo momento, perché proprio oggi ho ricevuto un messaggio da Omar, era qualche giorno ovviamente che non ricevo avere contatti con lui... Ha avuto un intervento che aveva appunto scritto... Sì, allora lui aveva in programma questa visita a Bologna, infatti lui mi aveva promesso che ci sarebbe stato, anche la presentazione del libro e tutto, però mi ha detto quei giorni sarò a Bologna per un controllino, questo controllino è diventato un'operazione impegnativa e stamattina ho ricevuto finalmente un messaggio di Omar che mi ha detto sono dolorante, ma ho ricominciato a fare qualche passo, mi sono alzato dal letto, fa non vedo l'ora di leggere del libro. C'è stato un lungo post di Omar sulla sua pagina Facebook in cui appunto si diceva dispiaciuto con i propri fans perché erano già state anche calendarizzate alcune date della ripartenza appunto, come tutti stiamo cercando di fare, e alla musica i concerti sono quelli che hanno sofferto di più ed era già pronto una tournée che ha dovuto invece posticipare. Sì, perché ti ripeto, da quello che mi aveva raccontato quando sono andato a trovarlo mi ha fatto la prefazione e lui mi aveva detto guarda in quel periodo in cui vuoi far uscire il libro io avrò un controllino a Bologna, cioè doveva essere proprio un controllo quasi di routine e invece poi dopo in questi casi non sai mai cosa ti aspetta, ma per fortuna è andata bene anche stavolta. Ecco diciamo subito che domani ci sarà la presentazione ufficiale, martedì 22 giugno all'Arena Castelli del Parco Castelli 20 e 30 ci sarà la presentazione appunto di questo Brescia il doppio salto. Si può ancora prenotare? Qui incontriamo qualcuno però. Si 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 ci sono parecchi giocatori, Aliboni, Gritti, Bonometti, Zoratto, Maritozzi, vengono tutti questi, doveva venire anche Pasinato, verrà sua figlia in rappresentanza perché ha avuto un piccolo malore però io farò anche la diretta Facebook sulla mia pagina Facebook appunto la mia privata di Cristiano Tognoli e quindi credo che in tanti potranno anche rimanendo a casa, so di gente che è già in vacanza e riuscire a seguirla. Chi è ancora interessato invece a partecipare perché purtroppo c'è una lista, purtroppo dobbiamo adeguarci, ci adeguiamo volentieri per rispettare tutto quello che va rispettato a livello di Covid però io ho una lista di 200 persone, di più non ne possono entrare e già sono a buon punto ma se qualcuno ancora vuole prenotarsi può farlo al numero 338 68 38 447. Trovano tutto sulla tua pagina Facebook? Che è il mio di numero, quindi rispondo io. Facciamo anche due chiacchiere. Per la serie, cioè sapete che è difficilissimo avere a volte i nostri personali di cellulari, non è così neanche nel mio caso, basta googolare e non è così neanche nel mio caso e questo vabbè ti fa onore, fai tutto direttamente. Senti, due minuti di pausa e poi ritorniamo ancora a parlare di Brescia al doppio salto, rimanete con noi. Rieccoci a sette e mezzo, stasera l'ospite c'è Cristiano Tognoli, insomma giornalista sportivo, storica voce del Brescia. tuo amico possiamo dirlo. Amico, sì vabbè abbiamo fatto un lungo percorso insieme. Mi hai sopportato, mi hai insegnato anche qualcosa perché sono arrivato dopo di te. Diciamo che c'è stato un periodo in cui ci scambiavano, ci scambiavano, era divertentissimo per sapere che... A te dicevano, ho visto parlare del Brescia, no, a me dicevano, ho visto leggere il TG, no era l'altro. Sì, per sapere che forse magari adesso è meno, non so, vai a trovare un minore la sua miglianza. Non so, siamo ancora simili. Però intorno a una trentina di anni fa, all'incirca, insomma quando tutti e due eravamo intorno ai 25-30, ci sono tanti di Cristiano, e ci scambiavano, lavoravamo entrambi per la stessa televisione, per la stessa vittente e quindi non da tutti e due. Io venivano scambiato per lui e mi facevano il terzo grado sul Brescia. E mi chiedevano di politica, dalle ultime sulle elezioni. Senti, ma innanzitutto, il doppio salto è stato questo che ti ha portato a scrivere questo libro in particolare del Brescia, perché tu chiaramente questi anni li hai vissuti più personalmente, meno professionalmente. Sì, da ragazzino, assolutamente, perché io sono del 73, quindi... Professionalmente hai vissuto tutto il dopo. Sì, 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 arrivo dopo. Però mi è piaciuto proprio mettere la mia esperienza da ragazzino tifoso al servizio, comunque linkata, diciamo così, come si dice adesso, connessa con quella che è adesso la mia professionalità appunto da giornalista. Poi a me piace scrivere, ho già scritto un libro che si chiama You, Tullio e Mike, che ho presentato nel 2018, dove già raccontavo di questo ragazzino un po' più grandicero in questi anni, perché eravamo fino agli anni 80, che aveva ancora queste passioni, il calcio, il basket, Tullio, che era Tullio Gritti, Mike, Mike Mice, di Tullio Gritti, io ho due libri, due libri che c'è. Tutte e due, esatto, con il presente Tullio Gritti. A me piace, a me piace scrivere, piace ricordare, piace fare insomma lavoro di ricerca, ringrazio l'emeroteca, ringrazio chi in emeroteca mi ha permesso insomma di andare a trovare tutto quello che mi serviva e tutti questi giocatori che si sono messi a disposizione e che ho voluto andare a intervistare dal vivo. Quindi c'è una parte di racconto, poi ci sono le interviste a questi personaggi? Sì, la prima parte è appunto il racconto di questi due anni calcistici con, come diciamo prima, la contestualizzazione di quello che succedeva in Italia, in città e quant'altro. Poi ci sono le interviste che ripeto ho fatto vis-à-vis, ad esempio la trasferta più lunga che ho fatto, ovviamente ho spese mie perché me lo sono prodotto io, questo libro è stato ad Arezzo, da Chiodini, ad Alessandro Chiodini che mi ha portato a mangiare in una trattoria strepitosa, mi ha mangiato un filetto toscano. Ma racconti anche questo oppure lo stai raccontando a noi? Mi sembra di sì, sembra che comunque lo accenno nell'intervista e poi sono stato non so da Maritozzi a Ravenna, a Russi che a Ravenna, sono stato da Mossini a Reggio Emilia, sono stato da Liboni a Carrara, insomma ne ho fatti di giri, poi vabbè Bonometti e Zorato li ho trovati qui a Brescia, Piovani a Longhena, quindi ho fatto tutte queste interviste come seconda parte diciamo e poi c'è una terza parte nella quale ho messo delle curiosità tra le quali, pensa un po', tu non lo diresti mai, è la seconda curiosità, nell'estate dell'86, lo leggo proprio dal mio libro, il Brescia era caccia di attaccanti per sostituire Tullio Gritti che aveva subito la squalifica di 4 mesi per il calcio scommesse, l'anno in cui vinciamo la B e la A per omessa denuncia. Per qualche giorno il club del presidente Franco Baribbi fu anche sulle tracce di un certo Marco Van Basten, perché sembrava che la Fiorentina stesse prendendo Van Basten e poi lo volesse dare in prestito, il Brescia era pronto a prenderlo in prestito, poi invece Van Basten rimase all'Ajax e poi l'anno dopo andò al Minan, sono curiosità che ho scovato, facendo un po' il topo della biblioteca perché dai emiroteca. Fra l'altro l'altra curiosità è comunque andare a leggere quello che ti hanno raccontato questi personaggi, perché comunque io ho letto alcune interviste, sono dei passaggi veramente molto molto... Quella di Aliboni, come al solito senza peli sulla lingua, c'è un'intervistona di Aliboni e poi solo anche il piacere di vedere certe foto, cioè guardate com'era Chiodini prima e com'è adesso, cioè hai capito? Un personaggio, ma io glielo ho detto quindi non si offende, ho detto cioè potevi essere un personaggio da fin su Alcatraz, uno che cerca di fuggire è un personaggio, è un personaggio in effetti. Sì, però una persona di una bontà d'animo e tra l'altro c'è la curiosità, io non me lo ricordavo, che lui da ragazzino faceva ginnastica artistica, poi si rompe una falange di un dito e diventa calciatore, ma tu questo umone, già questo ragazzone faceva ginnastica artistica, è impressionante! E poi diventa uno dei difensori più rocciosi della storia del calcio italiano. Pensa alla vita, che cosa ti riserva, cambi non cambi. Allora ne approfitto però, visto che sei qui, per chiederti anche ai giorni nostri una tua opinione sul Brescia che hai visto quest'anno. Sicuramente non mi è piaciuto il divorzio da Clotet, perché in un modo o nell'altro secondo me il presidente Massimo Cellino doveva riuscire a tenere un allenatore che fa 34 punti in 17 partite. Ma cosa è scattato con Clotet? Come Clotet è riuscito a far cambiare la squadra? Secondo me è entrato pieno di tutto nella testa dei giocatori, perché sai, avevano già cambiato 4 allenatori, perché è ripartito con Del Neri, poi è arrivato Lopez, poi c'era stata una parentesi di Gastaldello, Dionigi, lui era di fatto il quinto allenatore o comunque quarto, se non vogliamo calcolare. E non c'erano neanche grandi aspettative su di lui all'inizio. No, anzi, anzi, ma io ero il primo che quando avevo il giorno, mi ricordo che ero al campo, cercai anche di intervistare Cellino quel giorno che non mi lascio interviste, e quando arrivò la notizia ho detto, ma questo cosa sta facendo? Cellino, ma anche perché il Brescia era in zona di retrocessione, come hai detto tu prima, abbiamo rischiato quest'anno di andare in C, hai capito? E ho detto, ma questa è una follia, invece alla fine ha pescato l'allenatore giusto, e allora mi chiedo, perché non hai fatto il possibile per tenerlo qua? Perché è andata così, perché dopo si possono raccontare tante storie, Clotet che se n'è andato, ma se tu vuoi tenere una persona sai come tenerla, hai gli argomenti, e uno come Clotet non mi sembra che si sia ancora accasato o che abbia tutto questo mercato, anche se ha fatto bene. Quindi questo mi spiace, perché secondo me si poteva ripartire dal grandissimo lavoro di Clotet. E detto questo, benvenuto a Pippo Inzaghi, che non è l'ultimo arrivato. Certo, beh, insomma ha portato di nuovo un nome nazionale, assolutamente sì. E ci riporta comunque anche sotto un po' i riflettori nazionali. Pure stando in B, il Brescia riesce ad avere spazio. Sui social, ad esempio, oggi la Gazzetta ha fatto un pezzo sulla Serie B e i titoli erano sul Brescia e il Monza, che hanno uno Inzaghi e l'altro stroppa, cioè per dire, anche a livello mediatico è stato un colpo. Tu mi insegni che va bene all'allenatore, però poi... E' quello che stiamo aspettando. L'allenatore non scende in campo, però. E' quello che stiamo aspettando, però vedo che un po' tutte le altre squadre di Serie B non si stanno muovendo. Secondo me si aspetta un po' anche la fine degli europei, o comunque una scrematura degli europei. Adesso escono un po' di squadre, quindi si andrà a pescare, magari anche in qualche squadra che verrà eliminata. E poi, come sempre, è a domino, no? La prima squadra, anche in Serie B, comincia a fare i primi acquisti. Di un certo tipo poi arrivano anche le altre. Senti, vi ho visto che hai citato l'Italia, questi tagli di Mancini, che non stanno sbagliando un colpo. Piace anche a te, non ti entusiasmi anche tu. Quando comunque una squadra non prende un gol e vince comunque... Hai visto come corrono, come lottano. Sono freschi, sono belli, belli da vedere anche in tutti i sensi. L'importante è che... Perché poi il calcio è strano. Adesso si passa agli ottavi di finale, quindi ogni partita è secca o dentro o fuori. Se dovesse anche andare male, speriamo di no, però dovrà rimanere il bel ricordo di quello che sta facendo. Non vorrei che questo paese poi, dopo di colpo, gettasse addosso fango a questa squadra, che ha ridato anche dal punto di vista sociale la voglia di stare insieme, di associarsi, pur restando nei limiti previsti e consentiti, l'orgoglio di sentirsi italiani. Sembrano parole di retorica, ma io lo sto vivendo anche qui. Però questo è un periodo un po' particolare. Usciamo comunque dalla pandemia, usciamo comunque dal momento in cui anche psicologicamente siamo stati molto chiusi, molto oppressi, perché comunque siamo stati anche psicologicamente molto oppressi. in più occasioni noi abbiamo detto che abbiamo sperimentato, tutti un po' abbiamo sperimentato cosa sono gli arresti domiciliari in quest'ultimo anno e mezzo, chi più chi meno. Magari per avere il 2020 in particolare un po' più forte, poi un po' più allentato, però ecco, diciamo che... E questa ventata degli europei sta facendo bene. Torniamo noi allora, ricordiamo l'appuntamento di domani sera. Arena Castelli, se qualcuno vuole ancora andare a incontrare te e soprattutto questi personaggi... I giocatori che interverranno dell'epoca, quindi 338-68-38447 per gli ultimi posti disponibili, oppure a diretta Facebook sulla mia pagina. Segnatevelo perché poi è il suo numero, quindi sappiate che... Se volete insultarmi perché non vi è piaciuto il libro, fate prima rispetto ai social. E complimenti, spero più secondi di primi, a questo numero. Appuntamento 20-30, noi ci saremo, avremo modo di registrare l'evento e poi farvelo insomma vivere in un secondo tempo. Di questo ti ringrazio molto Paolo. In un secondo tempo in diretta, cioè in diretta no, ma in un secondo tempo invece in una delle nostre... Ti ringrazio molto perché già un po' di gente mi ha detto ma se io non dovessi riuscire a vederlo né in diretta né Facebook... Ci sarà l'occasione di vederlo. Buon lavoro Cristiano, ma ti risentiremo a fare la voce del Brescia? Beh, insomma un po' di progetti ce li ho, sono rimasto un po' fermo, ma l'idea è quella di ricominciare... Per adesso già sto lavorando comunque per una televisione che si chiama Lombardia TV, sto facendo... Possiamo dirlo, sì, sì, sì. Non è concorrenza locale. No, lo vuoi facciamo... Io vado in onda il giorno dopo le partite dell'Italia e quindi... Sugli europei. Esatto, sugli europei, quindi tra poco vado in onda e poi però ho in mente anche tante altre cose a livello locale perché insomma il Brescia Calcio e il Basket Brescia sono le squadre che seguo da sempre e che mi hanno anche, diciamo così, aiutato a farmi conoscere in questa città e capisco e vedo che c'è tanta gente che aspetta di sapere come la penso e il mio tipo di informazione. Beh, diciamo, sono 30 anni. Eh sì. Buon lavoro allora. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo domani sera a 7 e mezzo come sempre. a